Buonasera a tutti, questa è Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli con un'altra drammatica storia del mondo della musica. La storia di Lane Staley, il cantante degli Alice in Chains, e della sua Corsa nel Buio. C'è questo tipo vestito di nero, i capelli biondo platino lisciati all'indietro, un pizzetto lungo e rado sotto il mento. Porta un paio di occhiali neri a fascia sul profilo affilato e assomiglia un pochino a Spike, il vampiro di Buffy la mazza vampiri. Però questo qui, questo tipo qui, è più inquietante. Se ne sta attaccato all'asta di un microfono con la bocca spalancata e grida So I made a big mistake, try to see it on my way. Così fece un grosso errore, provando a vederlo per una volta a modo mio. Hanno un significato quelle parole. Lui le ha scritte apposta e se le canta è per dare un messaggio a qualcuno, a qualcuno in particolare, a se stesso. Lui, quello che canta, quello che sembra un vampiro, si chiama Lane Staley. Si può avere il destino segnato fin dall'inizio? Probabilmente no. Però un buon inizio, come in ogni cosa, è molto importante. Ecco, i primi anni di Lane, Thomas, Staley non sono felici. Nasce a Kirkland, che è una cittadina dello stato di Washington, non la capitale. Quello che sta lassù, in cima alla cartina degli Stati Uniti, dove c'è Sietto. Il problema è il padre di Lane, che si chiama Philip e non è un bel tipo. È un alcoolizzato e un tossicodipendente. E quando torna a casa, la sera, si porta dietro un sacco di amici, con cui resta fino a tardissimo a bere e a drogarsi. La mattina, prima ancora di preparare la colazione, la mamma di Lane deve darsi da fare per far sparire le bottiglie e le siringhe. Philip lavora, almeno quello. Ma per lavoro sta fuori tutto il giorno e Lane, praticamente, è come se un padre non ce l'avesse. A otto anni, smette definitivamente di avercelo un padre, perché i suoi divorziano e lui va a vivere con sua madre. Però a suo padre gli manca. Lane è un ragazzino sensibile, è molto introverso, molto riflessivo. Si chiede sempre, dov'è mio padre? E sua madre non sa cosa rispondergli. Meglio così, perché c'è un motivo per cui la madre ha chiesto il divorzio. Ha sopportato per anni la vita sregolata del padre di Lane. Poi ha scoperto che il lavoro che faceva era un lavoro molto particolare. Spacciava droga per conto della mafia, o almeno così le hanno detto. È abbastanza per la signora Staley. Divorzio e via col piccolo Lane. Ma a lui, suo padre, anche se è un delinquente, manca lo stesso. Cosa fa un ragazzino sensibile in un posto come Kirkland alla fine degli anni 70? Come succede a molti ragazzi sensibili e tormentati, Lane cerca di esprimersi con l'arte e con l'immaginazione. Dipinge, scrive poesie, ma soprattutto si dà alla musica. Canta, il piccolo Lane, e canta così bene che già a cinque anni sta nel coro dell'asilo. Poi si mette anche a suonare e suona la batteria. Va bene, però non basta. Il giovane Lane resta un ragazzo inquieto, sensibile e tormentato. Fa una cosa che succede a molti che attraversano un periodo di depressione tale che gli fa rifiutare inconsciamente la realtà in cui vivono. Si dimentica le cose. La realtà in cui vive è la scuola e lui si dimentica tutto. I libri che deve portare, i compiti che deve fare, tutto. Si mette sempre nei guai. Litiga con tutti e finisce sempre davanti al preside. Così la scuola decide di fare una cosa che si rivela un grosso errore. Lo manda in un istituto per giovani affetti da disturbi sociali. Le scuole differenziate, insomma. Per ragazzi difficili e caratteriali. È un po' come certificare il suo disagio, renderlo evidente e dargli un'etichetta. Cosa fa un giovane sensibile a Kirkland alla fine degli anni 70? Si mette a suonare, lo abbiamo visto. Va bene, ma che tipo di musica? All'inizio è il rock glam di quegli anni, un sottogenere preciso, che si chiama hair metal. Lane ascolta gruppi come Anthrax, Black Sabbath, Judas Priest. Suona la batteria e si ama ad altri ragazzi mette su un gruppo che si chiama Slaze e che in inglese significa sporco, malandato, trascurato. È anche un genere, lo Slaze Rock, che è un po' più rude e sporco dell'hair metal, più vicino al punk in un certo senso. Lo fanno gruppi come Faster Pussycat, Skid Row e tanti altri, in una linea che poi arriverà fino ai Guns N'Roses. Gli Slaze però gli vanno stretti, la batteria gli va stretta. Lane è un poeta, scrive testi bellissimi e vorrebbe anche cantarli, perché ha questa voce particolare, perfetta per esprimere le emozioni. Gli Slaze però non vogliono, ce l'hanno già un cantante che suoni la batteria. Così Lane se ne va. Ha conosciuto un tale, una sera, in un locale di Seattle, che si chiama Music Bank, la banca della musica. Un chitarrista di air metal dai lunghi capelli biondi, Jerry Cantrell si chiama. Jerry ha già un gruppo, i Diamond Lie, ma anche lui vuole fare qualcos'altro. Così si mettono assieme, aggiungono due amici di Jerry, Mike Star che suona il basso e Sean Kinney che suona la batteria e così, alla metà degli anni Ottanta, nascono gli Alice Incenti. Che musica fa un gruppo a Seattle a metà degli anni Ottanta? Risposta facile, musica grunge. Anche se non la facesse davvero, qualunque cosa facesse, in quegli anni da quelle parti si direbbe comunque così, grunge. Il termine grunge significa sudicio, sporco, e sta ad indicare l'immediatezza, la ruvidità e la spontaneità di quello che più propriamente viene chiamato il Seattle Sound, la musica prodotta in quegli anni dai gruppi della scena di quella città. Il Seattle Sound viene dal heavy metal, dall'hard rock e dal punk. Molla i sintetizzatori e l'elettronica degli anni Ottanta, i virtuosismi con le chitarre, e torna all'impatto violento, basso, batteria e chitarra. Un po' quello che era successo con il punk alla fine degli anni Settanta. Suoni violenti, distorti. Nascono gruppi come Pearl Jam, Stone Temple Pilots e Soundgarden, tutti etichettati come grunge, anche se spesso non hanno molto in comune. I più noti di questi gruppi sono sicuramente i Nirvana. La società in cui nasce il grunge è quella dell'America del Nord, molto al nord, durante il periodo di crisi della seconda metà degli anni Ottanta. Povertà, disoccupazione, degrado, disagio sociale, droga. I temi che la musica grunge affronta con i testi delle sue canzoni sono questi. Oscuri, ermetici, disperati, malinconici, a volte urlati con rabbia nei ritornelli. C'è anche un movimento estetico, uno stile, come era successo per il punk, che distingue chi suona e ascolta grunge. Capelli lunghi, jeans stracciati, vecchie scarpe da ginnastica, magliette e sopra la camicia di flanella a quadri che portano i redneck, i boscaioni, i lavoratori di quella zona. Questa è la musica di Lane Stanley. Questo è quello che canta quel tipo in nero, pallido come un vampiro. Not to play my funeral before the body dies. Non programmare il mio funerale prima che il mio corpo muoia. C'è un destino per la vita di uno come Lane Stanley? O il suo destino uno se lo crea e se lo cerca? Lane comincia con la droga già alla fine degli anni 70, quando è ancora con gli Sleys. All'inizio sono soltanto spinelli e poi beve parecchio, e questo non è strano per un musicista come lui. Poi però passa presto all'eroina e questo non va bene. Lane diventa dipendente molto presto. Più gli Alice Incense hanno successo, più i loro dischi vanno nelle classifiche e vincono i dischi di platino, più vanno in giro tutti assieme a suonare davanti a migliaia di persone e più lui si droga. Si vede quando è sul palco. È magrissimo, pesa 50 kg ed è bianco come un fantasma, dicono i suoi compagni. Non ce la fa, sta male. E per gli ultimi due album gli Alice Incense non possono fare tournée, perché Lane sta troppo male ed è sempre in clinica a disintossicarsi. C'è un concerto dal vivo che gli Alice Incense registrano per la serie MTV Unplugged al Brooklyn Academy nel maggio del 1996. È uno dei loro dischi più belli, ma quando si guarda il video si vede benissimo che Lane sta male e quasi a volte non ce la fa cantare. Lane comincia a vivere da isolato. A parte prove e registrazioni che si fanno sempre più rade, vive da solo, chiuso in casa e non vuole vedere nessuno, non parla con nessuno. Gli succedono due cose, due brutte cose. Sarà il destino o sarà lui che se le cerca? La prima gli capita, comunque, e lui non può farci niente. Nell'ottobre del 1996 muore la sua ex ragazza, Demry Lara Parrot, a cui Lane è legatissimo, il grande amore della sua vita. Demry muore per edocardite batterica, un'infezione, che le è venuta per un motivo preciso. Demry è una tossicodipendente e fa uso di eroina, ed è così che se l'è presa. È un bruttissimo colpo per Lane. Tossicodipendente anche lui, è in lotta con se stesso. La seconda gli era capitata molto tempo prima. All'improvviso era tornato suo padre. Il signor Phillip aveva visto la foto di Lane su una rivista. Lo aveva cercato ed era andato da lui. A Lane era sempre mancato suo padre. Così ci prova, prova a frequentarlo, ma non va bene. Anche suo padre è un tossicodipendente. Cominciano a farsi insieme e a Lane sembra che Phillip vada a trovarlo solo per la roba. Così si separano di nuovo. Phillip entra in una clinica e si disintossica e, a quanto dice, resta pulito. Lane no. La sua ultima intervista è del gennaio del 2002. È un'intervista triste. Lane parla della droga e la paragona all'insulina per un diabetico. Non la prende per divertirsi, per sballare, come dice lui. La prende solo perché ne ha bisogno, come una medicina, e non si diverte per niente. Lo so di aver fatto un grave errore quando ho cominciato ad usare questa merda, dice. Il mio fegato non funziona più. Vomito sempre e me la faccio continuamente addosso. La droga ti distrugge tutto il corpo. Ed è proprio di questo che canta nelle sue canzoni, tra le parole dei suoi versi ermetici, strani, incomprensibili, di droga, di dipendenza, della sua corsa nel buio, sempre più veloce. Non voglio più vedere nessuno. Non sono affari di nessuno, solo miei, dice Lane nell'intervista. Il 19 aprile del 2002 arriva una telefonata al 911, il numero delle emergenze della polizia degli Stati Uniti, l'equivalente del 113 da noi, più o meno. Una voce anonima dice che ha cercato Lane al suo appartamento in un condominio del distretto universitario di Seattle, ma lui non risponde. Dice anche che sono due settimane che non si fa vedere da nessuno. La polizia corre all'appartamento di Lane, sfonda la porta e lo trova steso a terra, davanti alla tv accesa. Attorno a lui ci sono siringhe e resti di droghe varie. Lane è morto, naturalmente. E l'autopsia dirà che ad uccidere è stata una mistura troppo carica di cocaina e d'eroina, uno speedball, insomma. Quando muore, Lane ha 34 anni, e naturalmente è un lutto per tutta la scena musicale di Seattle, e non solo, di tutto il mondo. Era il suo destino? Se l'è cercata? Bastavano la sua voce e le sue canzoni per farlo diventare un mito e farci raccontare la sua storia? O doveva proprio morire in questo modo? C'è il chitarrista degli Alice in Chain che dice una cosa particolare. Jerry Cantrell ha una passione, lanciarsi col paracadute. Un giorno ha un incidente, il paracadute tarda ad aprirsi e a momenti lui ci lascia la pelle. Però si salva. Che peccato, dice Jerry in un'intervista. Ho perso l'occasione di diventare un immortale del rock. Ho perso l'occasione di diventare un rock.